Ragazzi miei belli, ragazzi miei belli, buonasera a tutti. Allora l'altro giorno vi ho fatto riflettere su che cosa? Sull'autaro Martinez. Allora partiamo dal presupposto che pensavo di avervi fatto capire un po' la situazione quale fosse. Vi ricordo ancora una volta che stiamo cambiando proprietà, ci sono delle tempistiche burocratiche da rispettare, quindi qualora ancora non si fosse capito, a parte le distanze di cui parlano tutti, oggi ne ha parlato anche Fabrizio Biesin, che io stimo tantissimo, gli voglio anche bene, lo conosco, quindi è una bravissima persona e soprattutto un grandissimo giornalista, ma Fabrizio non parla di soldi, di numeri, parla di distanze. E le distanze non significa che siano per forza 12 milioni di euro, a me se non concesso che lo siano, 12 milioni di euro. Ragazzi, il gioco delle parti, è così. Ragazzi, Mauro Icardi prende 10 milioni di euro al Paris Saint-Germain o sbaglio? Pensate che Mauro Icardi valga più di Lautaro Martinez? Per me no. Per me a livello tecnico non c'è paragone. Per me Lautaro vale di più di Mauro Icardi. Ma non significa questo, il concetto è semplice. L'Inter non si può permettere una cifra del genere. E suppongo che al di là di tutto quello che è l'Inter e le sue difficoltà finanziarie che ha avuto negli ultimi anni e quant'altro, io penso che un tetto di 12 milioni di euro, poche squadre, poche società in Italia se li possono permettere, forse nessuna. Comunque se inizi così, con uno, ti rovini. Per come siamo combinate, per come siamo ridotte in Italia, parliamoci chiaro tutte, è difficile che si possa arrivare agli stipendi inglesi o spagnoli e quant'altro. Però io vi ricordo che tutta questa fretta, questo peperoncino, ce l'avete voi. Tutta questa fretta di dover per forza rinnovare. Io vi ricordo che Lautaro ha un contratto fino al 2026. Quindi scade fra due anni il contratto. È chiaro che non puoi rinnovarlo nel 2025, nell'estate 2025, perché sennò poi potrebbero togliertelo a meno soldi. Ragazzi, ma nel momento in cui Lautaro Martinez firma, e firmerà, perché Lautaro non lascia l'Inter senza soldi, se non riesce a trovare un accordo, per quanto mi riguarda, Lautaro Martinez se ne andrà da signore, a differenza di tanti altri, e ti farà guadagnare abbastanza soldi. Detto questo, se andrà via perché vorrà più soldi, andrà in qualche altra città, vediamo dove si troverà meglio. A Milano ha un ristorante che non è che lo fa morire di fame. La moglie sta bene a Milano, i figli stanno crescendo, sono nati a Milano, anche se sono nati in Argentina, però sono cresciuti a Milano. A Milano sta bene, in altre parti non lo so. Dico, è chiaro che se parliamo di 9 milioni di euro, più bonus, o 8 milioni e mezzo, più bonus per arrivare a 10 milioni, non è che si impuzza dalla fame Lautaro Martinez, quindi qualora questa cosa non dovesse essere presa in considerazione e Lautaro se ne vuole andare dall'Inter, amen, pace ragazzi, ma non ho capito che cosa ce ne facciamo di una persona che non vuole stare, qualora non volesse stare. Se non vuole stare per soldi, raga, ne hai il pieno diritto in questo calcio mercenario che c'è. Cioè non lo condannerei, anche perché ha giurato amore eterno all'Inter. No, Lautaro Martinez non si è mai baciato lo stemma dicendo vi giuro amore eterno, no. Lautaro Martinez ogni intervista che gli è stata fatta ha sempre detto testuali parole. Io qui sto bene, sono felice all'Inter, mi sento in una famiglia, mi hanno accolto come in una famiglia, ma nel calcio di oggi non si sa mai, non ha mai detto, e ve lo ribadisco come l'altra volta, ah i tifosi mi conoscono, possono stare tranquilli, mai, non ha mai detto io voglio tornare all'Inter, mi dispiace, mi scuso per tutto quello che ho fatto, io voglio tornare all'Inter, e no a fine carriera, ma nel più breve tempo possibile, perché voglio vincere tantissimo con l'Inter, sì infortunio e quanto altro, dopodiché se ne è scappato, Lautaro non è questo. Quindi Lautaro sinceramente, qualora volesse andare via per soldi, lo saluterei, lo ringrazierei per aver onorato la maglia, per aver messo in campo spirito, abnegazione e quant'altro, ma adesso non farei un dramma apocalittico, perché secondo me si riuscirà a trovare un accordo. Per il rinnovo, e anche quando se ne dovesse andare l'anno prossimo, pur avendo rinnovato, comunque Lautaro ti fa guadagnare una barca di soldi, e quindi andrà sempre rispettato, perché il calcio di oggi è questo. Possiamo evitare le polemiche, possiamo dire, ah si amasse l'Inter a questo... Trevisani, per carità di Dio, lui parla da persona romantica, affezionata a quel calcio di una volta, quando uno diceva io amo questa città, io amo questi colori, io mi trovo benissimo, mi sento a casa, e allora era tutto, si faceva di tutto per rimanere nella città della squadra dove si militava in quel momento, no? Adesso non è più così ragazzi, ci dobbiamo, dobbiamo entrare nella forma mentis, che il calcio purtroppo, e lo dico amareggiata, non è più quello romantico di una volta dove i calciatori pur di restare in una... può capitare un calciatore, due, tre, che pur di rimanere in una società fanno faville e si abbassano, non lo so, lo stipendio di non so quanti soldi. Ragazzi, non è il caso di Lautaro Martinez, anche perché questo ha fatto un campionato strepitoso. Ah, perché la differenza nella Champions League non la fa. Ragazzi, la Champions League, fuori dalla Champions League ci siamo usciti tutti. Hanno sbagliato tutti. Tutti hanno commesso un errore. La squadra. Perché quando si vince, si vince da squadra. Quando si perde, si perde da squadra. Sicuramente Lautaro si è mangiato e divorato il mondo di gol. Tchuram la stessa cosa. Marco Arnautovic uguale. Tutti. Tutti, non salvo nessuno dall'uscita così precoce dalla Champions League che è stata... È stata una cosa che non ci aspettavamo, onestamente. Però è successo. Ma da lì a parlare fin troppo, senza motivo, e a creare una polemica, quando siamo appena usciti da un'altra. Ma vi sembra il caso. Ma vi sembra il caso. Lasciate che gli eventi facciano il loro corso. E poi, diciamo, la nostra. Penso che sia la cosa più logica da fare. No! Condividi il video, mi raccomando. Iscriviti su tutte le mie pagine, su tutti i canali. Possibili e immaginabili, su tutti i miei canali social. E soprattutto, ricordati, mi raccomando, perché è importante, che la vostra Lucri vi vuole bene. E sempre, sempre, sempre. Forza Inter! Ricordatevi che quello che resta è l'Inter. Tutto il resto scorre. Non sono una giornalista. Sono un'appassionata. E si vede pure.